Sono già in corso sulle spiagge salernitane i controlli affidati agli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno. Con l'arrivo dell'estate entra nel pieno delle sue funzioni, in verità mai ferme su una provincia così estesa e che si affaccia sul mare come quella salernitana, le attività del corpo della Guardia Costiera, pronto a vigilare sul rispetto delle norme, la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei bagnanti. A confermarlo e a garantirlo è stato questa mattina proprio il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Daniele Di Guardo, reduce dalla partecipazione con i suoi uomini alla giornata mondiale degli oceani che ha visto centinaia di volontari al lavoro per ripulire i fondali. È un'importante attività appunto che ha voluto la Guardia Costiera con questo progetto, anche con un progetto europeo Clean Sea Life, che ha visto impegnati i nostri nuclei sommozzatori e i sommozzatori dei centri diving per cercare di ripulire un po' i nostri fondali e soprattutto di dare quella sensibilità verso tutte le persone sui danni che si possono creare all'ecosistema marino e costiero. Noi abbiamo, oltre quest'opera di sensibilizzazione, abbiamo garantito quella necessaria cornice di sicurezza per far sì che queste operazioni di recupero andassero a buon fine. Rispetto dell'ambiente, sicurezza restano appunto tra le principali mission della Capitaneria di Porto che con l'entrata ormai della stagione balneare deve effettuare massicci controlli anche sul rispetto delle regole sia da parte dei bagnanti ma anche dei gestori balneari. Certo, in prossimità appunto della stagione balneare, diciamo, le nostre attività sono anche rivolte verso il corretto uso del demanio marittimo, quindi in funzione delle concessioni rilasciate agli stabilimenti balneari, alla fruizione delle spiagge libere e a tutte le attività che si svolgono a mare. In acqua appunto i diportisti incominciano a farsi vedere e quindi iniziano i controlli sia presso i pontili che a mare nei diportisti, appunto quello che vogliamo assicurare è quello di garantire a tutti quanti un corretto e ordinato svolgimento di tutte le attività, da quelle sportive, ludiche, anche a quelle professionali. Comandante, in questo momento nel Comune Capoluogo c'è grande attenzione sull'affidamento delle spiagge libere. Molti cittadini hanno espresso perplessità rispetto ad una palizzata che per molti non rispetterebbe la lunghezza. E cosa state effettuando dei controlli anche su questo tipo di disagio? Sì, esatto. Noi abbiamo già iniziato a fare i controlli perché gli stabilimenti balneari, diciamo, hanno iniziato già a montare e a iniziare appunto le loro attività. Stiamo verificando anche questa segnalazione. Ogni giorno, ecco, ci vedrete, se non ci avete ancora visto, comunque ogni giorno siamo sulla nostra splendida costa. Intanto c'è un messaggio promozionale che ricorda il numero da contattare per la sicurezza, delle bellissime immagini che mostrano come siete pronti ad intervenire. Quindi sperando che nessuno ne abbia bisogno, o meno possibile, ricordiamo a tutti come fare per contattare la Capitaneria in caso di necessità. Sì, c'è il numero di emergenze appunto che è il 1530. Sono contento che abbia visto e apprezzato il messaggio promozionale voluto dal Comando Generale.